questi ragazzi sono stati vulcani che visto che siamo su un'isla chiamata vulcano c'è un vulcano laggiù quello è il vulcano c'è l'odore di zolfo perché ci sono le terme perché c'è il vulcano e io l'odore di zolfo non lo riesco a sopportare tipo due anni fa abbiamo fatto una mega vacanza a Roma e siamo andate alle terme io prima della vacanza ovviamente ero tutto felice perché era la mia prima volta alle terme e ho detto ho detto pure le terme saranno il mio pezzo preferito sono arrivata alle terme e ho sentito il sudore cosa è il sudore? è lo zolfo e ho iniziato a fare allora siamo alle terme di saturnia ma abbiamo un proprio problema fai così avete visto? mi fa veramente... vabbè qua non si sente molto io adesso torno a nuotare, ciao grazie